grazie ascoltatrici e ascoltatori di liberi oltre bentornati questa è la prima puntata di una serie di episodi che dedicheremo qui sul primo canale alla riforma della giustizia e che è stata fidata insomma ai due conduttori della rubrica diritti al punto che già abbiamo sperimentato sul canale di agora io dunque insieme a roberto palumbo che saluto e ringrazio ciao roberto ciao marco grazie grazie di tutto bene oggi abbiamo dedicato la prima puntata a quello che dovrebbe essere uno dei principali temi della riforma della giustizia presentata da carlo nordio la settimana scorsa in conferenza stampa e come sapete dedicata alla memoria di silvio berlusconi come egli stesso ha precisato nella sua nella sua presentazione tra i pilastri della riforma della giustizia presentata da carlo nordio quello che sicuramente ha fatto più discutere e farà più discutere anche nella nostra community è quello relativo all'abolizione del reato di abuso di ufficio ma l'abolizione del reato di abuso di ufficio è davvero la soluzione a quella che da anni ormai si denuncia essere come quella come la burocrazia cosiddetta difensiva no in cui gli amministratori locali proprio per paura di essere incriminati per questa fattispecie che ora analizzeremo insieme e cercheremo di capire che cose effettivamente significhi dunque l'abolizione dicevo del reato di abuso di ufficio è la soluzione a questo problema e in generale proveremo anche a capire questo problema effettivamente esiste hanno parlato di questo tema in tanti noi oggi vogliamo farlo però in modo approfondito e con un ospite davvero eccezionale che è il procuratore axel bisignano buongiorno anzi buonasera e benvenuto sul nostro canale bentornato sul nostro canale grazie ciao a tutti allora una piccola so che tu hai preparato molte molti documenti anche da mostrare al nostro pubblico ma se dovessimo insomma fare capire al pubblico che cosa si tratta quando si parla di abuso di ufficio è proprio in modo tale che lo capisca anche un non giurista insomma una persona che magari segue questo dibattito e non capisce quali siano insomma i tratti distintivi di questo reato e del perché se ne stia discutendo così tanto tu come aprivesti questo tema cerchiamo diciamo di spiegare in sostanza che l'abuso d'ufficio come vedremo poi nel dettaglio è una norma residuale di chiusura del sistema dei reati contro la pubblica amministrazione quindi in pratica si dice se non è concussione se non è corruzione se non è un qualche altro tipo di reato contro la pubblica amministrazione allora ci sono una serie di condotte che comunque il legislatore ritiene essere potenzialmente gravi e lesive della della pubblica amministrazione per cui le pulisce le punisce scusate queste condotte sono condotte che possono essere diciamo ricondotte a tre macro categorie la prima è quella del voler arricchire una terza persona la seconda quella del arricchire se stesso quindi in entrambi i casi quello di conseguire dei vantaggi patrimoniali e poi la terza macro area è quella invece del voler recare un danno ingiusto quindi che non deve essere solo patrimoniale ma può essere anche di altro tipo a a terze persone questa sarebbe sostanzialmente diciamo la una descrizione molto molto generale della condotta quindi quando tu fai avere dei vanta quando tu fai avere dei vantaggi patrimoniali ad un terzo quando tu fai avere dei vantaggi patrimoniali a te stesso oppure quando tu vuoi danneggiare una terza persona questo è in estrema sintesi il reato perfetto hai fatto un riassunto direi molto efficace anche comprensibile dai non giuristi però la domanda che voglio farti per introdurre un po questo dibattito è la seguente la prima anzi è una è una duplice domanda la prima è è vero che questo reato e lo chiedo a te che sei magistrato negli ultimi anni ha davvero rappresentato un ostacolo alla pubblica amministrazione e ai pubblici amministratori per esercitare diciamo efficientemente le loro funzioni e se la risposta è effettivamente positiva come effettivamente pare avere sostenuto carlo nordio nella sua conferenza stampa non solo lui ma anche altri giuristi sembrano insomma orientati in questa direzione ti chiedo anche di spiegarci il perché effettivamente potrebbe o ha costituito un ostacolo posto che insomma effettivamente questo problema ci sia francamente io non capisco molto per quale motivo questa cosa avrebbe o questa norma costituirebbe un ostacolo all'attività della pubblica amministrazione in particolare creerebbe paura della firma e sono poi gli argomenti stessi dei 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 legislatori o del ministro che come dire dimostrano quello che io sto sostenendo laddove loro dicono che in definitiva si tratta di una fattispecie di reato applicata rarissimamente no che rarissimamente giunge prima di tutto ad un processo questo significa che la magistratura da questo punto di vista fa abbastanza un buon governo della norma nel senso che loro citano questa statistica per cui il 95 per cento delle notizie di reato viene automaticamente non automaticamente viene archiviata dalla magistratura ce ne sono tante che vengono archiviate autonomamente automaticamente perché chiaramente sono chiaramente infondate ci sono altre che vengono archiviate perché non ci sono i presupposti considerato che la norma appunto ha fissato tutta una serie di paletti che impediscono delle interpretazioni chiamiamole così particolarmente disinvolte fermo restando che qualche volta ci sono quindi ci sono anche delle 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 esagerazioni però in definitiva parliamo di pochissime pochissime azioni penali e di ancor meno condanne a questo punto per quale motivo io dovrei aver paura di questa fattispecie di reato non capisco io sinceramente il problema è che voglio fare una provocazione ulteriore la critica che viene fatta è sì appunto questi procedimenti si concludono con l'archiviazione ma intanto il procedimento comunque ha inizio e c'è una ricaduta anche mediatica per l'amministratore che si trova ad essere sottoposto a procedimento penale talvolta e questo ovviamente è un argomento che viene utilizzato dai sostenitori di questa riforma nordio questi procedimenti sono avviati perché appunto essendo questa una norma di chiusura è facile no avviare questo procedimento penale alla ricerca nel frattempo di altri più gravi reati di quali dei quali appunto l'abuso d'ufficio non è che una spia e dunque si dice sì d'accordo che vengono archiviati d'accordo che nella maggior parte dei casi poi quando si va a processo ci si trova nella soluzione però nel frattempo il danno è stato fatto le cose stanno in questi termini ma anche questo francamente io faccio fatica a vederlo a dire il vero adesso è chiaro che io poi vedo la tutta la cosa un po dalla prospettiva limitata di bolzano però in linea di massima il 95 per cento appunto delle notizie di reato archiviate significa che di quel 95 per cento almeno il 93 per cento sono notizie di reato di cui l'opinione pubblica non viene nemmeno a conoscenza e probabilmente non ne viene conoscenza nemmeno il soggetto che viene indagato cioè io stesso probabilmente sono stato denunciato x volte per abuso d'ufficio presso la procura di trieste che indaga sui magistrati di bolzano e non ne so assolutamente nulla perché il magistrato archivia cioè il pubblico ministero chiede l'archiviazione e il gip archivia senza che vi sia stata un coinvolgimento del soggetto indagato nel procedimento poi certo se c'è una persona che ha fatto una denuncia che si considera persona offesa quasi sempre ovviamente per rimanere nel campo del magistrato parliamo dell'ipotesi tendenzialmente del magistrato che ha arrecato un danno ingiusto a una terza persona quindi quella è una persona che più che persona offesa è persona danneggiata tecnicamente ma adesso non mi non mi perderei in queste disquisizioni questo soggetto nel momento in cui si dovesse opporre ad una richiesta di archiviazione a quel punto io verrei a sapere del procedimento a mio carico però parliamo di eventi ed episodi abbastanza marginali cioè ripeto nella stragrandissima maggioranza dei casi si conclude in archiviazione senza che nemmeno l'indagato sappia che è stato sottoposto ad indagine quindi il cosiddetto strepitus fori per cui appunto c'è la la stampa che viene a sapere della dell'indagine a quel punto il sindaco piuttosto che pubblico funzionario si ritrova paralizzato nella sua attività anche perché poi ormai abbiamo visto che i politici forse anche per colpa della magistratura e in ogni caso solo perché c'è un procedimento penale non è che fermo non è che si mettono ormai per certi versi anche giustamente insomma no quindi vanno avanti per la loro strada in attesa che poi si concluda il procedimento quindi anche questo danno non lo vedo io personalmente però ripeto posso anche sbagliarlo sì io volevo rifarmi quando il ministro taormina al summit taormina dichiarato che se l'europa ci chiedesse una sorta di rimodulazione del nostro sistema integrato repressivo noi siamo disposti ad accoglierla detto ma non nella forma in cui esisterà l'abuso d'ufficio che era così evanescente atipico come l'ha definito il ministro da non avere uguali in europa tra l'altro nessun altro ordinamento dell'unione europea questo risulta è vero secondo lei no perché se poi quando noi andremo a vedere la norma nel dettaglio era evanescente fino al 1000 fino al 1997 e per cui il legislatore intervenne nel 1997 e la definì in una maniera abbastanza come dire chiara e poi dopo nel 2020 c'è stato un ulteriore intervento ancora più radicale da questo punto di vista che ha cesellato la norma in modo tale che residuano e può essere applicata solo in un margine abbastanza ristretto di casi ed ipotesi e quindi anche da quel punto di vista lui aveva ragione se fosse ancora in vigore la norma che è entrata in vigore nel 1990 fino al 1997 allora l'affermazione sarebbe corretta ma partire dal 97 in poi e maggior ragione dal 2020 l'affermazione non corrisponde a verità almeno secondo me ripeto sono siamo sempre nel campo dell'opinabile però poi vedremo leggeremo la norma nel dettaglio e argomenteremo su quello ecco e proprio roberto prego ok no dicevo appunto la questione che stavi appunto introducendo è questa proviamo a vedere la norma in dettaglio perché tu so che hai preparato uno schema molto interessante su questo effettivamente ciò che la norma è oggi è il risultato di possiamo dire tre grandi riforme la prima nel 1990 che ha modificato il testo originale che era del 1930 il codice rocco e l'altra del del 1997 quindi a quasi sei anni a sei anni dalla prima riforma e l'ultima effettivamente nel 2020 che è forse quella tra le ultime riforme più rilevante dal punto di vista proprio del 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 insomma della insomma del restringimento del del campo applicativo di questa norma e quindi andiamo a vedere nel dettaglio qual è stata questa evoluzione e soprattutto qui già introduco la successiva domanda perché si è sentito e perché il legislatore il parlamento e i vari governi che hanno sostenuto effettivamente le varie maggioranze parlamentari che hanno sostenuto queste riforme si siano sentiti diciamo in dovere di modificare questa norma è colpa e qui faccio la domanda diretta come alcuni affermano di voi magistrati che avete fatto nel corso degli anni no lo dico con un po con un punto di provocazione una applicazione troppo estensiva di questa fattispecie oppure ci sono altre ragioni che possiamo vedere insieme adesso allora prima di andare a vedere nel nel dettaglio la norma e ovviamente le colpe come dire sono anche tra virgolette nella parte della magistratura ecco nel senso che le colpe sono di tra virgolette di due tipologie la prima è quella di una come dire difficoltà chiamiamola così da parte di dell'organo in corrente spesso nel riuscire a discriminare e nell'uscire a individuare bene la norma violata la norma amministrativa violata e questo poi va poi ad incidere sull'esercizio dell'azione penale che spesso poi nei casi in cui è stato si è avviata l'azione penale poi si arriva poi alla soluzione no e quindi io ho avviato questo processo chiaramente a quel punto con anche problematiche perché potrei anche chiedere la sospensione di questo di questo pubblico funzionario quindi applicare una misura cautelare e pertanto effettivamente cagionare dei danni non rendendomi conto che la violazione della norma ipotizzata magari non c'è stata oppure che non c'è il dolo molto molto intenso che richiede la norma come avremo modo di vedere e poi c'è un'altra colpa chiamiamola così sempre della magistratura che è quella di avere cercato in certi casi di ampliare eccessivamente la portata della norma in un tentativo come dire moralizzatore che ovviamente non non è non è corretto non non va bene perché si tratta di un di una supplenza che intraprenderebbe la magistratura e che non dovrebbe un ruolo che non dovrebbe rivestire però parliamo comunque non di tantissime pronunce ecco sì sì sono sono d'accordo in questa cosa e fa un po quello che hai detto smentisce un po anche alcuni dei luoghi comuni che ogni tanto sentiamo soprattutto tra la parte politica che forse più vicina a questo canale relativamente a quello che viene spesso detto sull'abuso d'ufficio allora io proprio ti proporrei adesso di andare a vedere i passaggi i vari passaggi con cui questa norma è andata evolvendosi e diciamo nello specifico con lo schema che hai preparato e che so poi insomma potremmo trasmettere già anzi lo vedo qui in visione sì sì perfetto si vede sì sì si vede allora noi abbiamo praticamente questo primo intervento legislativo che è la legge numero 86 del 26 aprile del 1990 è la norma dice il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arricare ad altri un indanno ingiusto abusa del suo ufficio è punito questa è la definizione della norma allora è qui noi sostanzialmente i giuristi nel nel qualificare come dire un reato un reato devo qui a introdurre alcune categorie generali no un reato si compone di una serie di elementi si suol dire no il primo elemento è quello del dell'elemento cosiddetto soggettivo l'elemento soggettivo è praticamente la volontà di commettere il realo il reato diciamo così molto semplicemente molto banalmente parlando noi distinguiamo poi tra i reati dolosi e i reati colposi i reati dolosi sempre rimanendo e utilizzando dei termini molto semplici sono quei reati dove io voglio come dire commettere il reato cioè lo faccio apposta dicendolo in maniera semplice no i reati colposi sono quelli in cui io non voglio che il reato si si compia però per violazione di regole regole che possono essere generiche regole sociali regole anche giuridiche eccetera quindi per negligenza imprudenza in puri imperizia oppure per violazioni di regole io ho eh cagionato quasi sempre un danno no quindi io ho violato il codice della strada perché ho superato in curva e sono andato a scontrarmi con l'auto che veniva nella nell'opposta direzione io non volevo l'evento anche perché chiaramente ci richiamo anch'io di rimetterci eh le penne però ehm ho agito in maniera colposa no nel caso invece di colui che vuole sottrarre eh una il portafogli lui vuole esattamente conseguire quel tipo di risultato e pertanto lui ha detto in maniera dolosa ecco per quanto riguarda il dolo poi ci sono tutta una serie di categorie ehm c'è il cosiddetto eh ci siamo ci sono categorie di dolo che sono più o meno come dire intense e gravi la la forma di dolo più blanda eh è quella del cosiddetto dolo eventuale cioè una forma di dolo in cui il soggetto ehm vuole commettere un determinato reato per dire è tutt'altro rispetto a quello che poi si verifica l'esempio che viene fatto nei manuali è quello praticamente del tentativo di estorsione mediante bomba io sono un eh mafioso che applica a questo tipo di ehm tentativo di estorsione e piazzo una bomba eh davanti ad un negozio la faccio esplodere in un orario notturno in modo che nessuno si faccia male però eh però in avvertitamente passa qualcuno oppure il padrone del negozio per ragioni sue si è fermato più a lungo nel negozio e muore allora qui si discute ma qui lui non voleva uccidere di fatto lui voleva solamente far saltare in aria il negozio per eh intimidire il negoziante di questo morto che cosa ne facciamo è un un omicidio colposo o un omicidio doloso? E allora la giurisprudenza, la dottrina è concorda nel ritenere che si tratta di un omicidio doloso perché eh come si dice lui ha accettato il rischio nel senso che lui sostanzialmente dice io metto la bomba allo stesso se poi qualcuno passa e muore pazienza insomma è un cosiddetto danno collaterale no? Questo è il cosiddetto dollo eventuale. Poi abbiamo il dollo specifico quando qualcuno vuole conseguire un qualche cosa che è al di là e oltre il fatto il dollo specifico è colui che vuole rubare qualcosa con il fine dice la norma di trarne un profitto quindi l'avere il trarre profitto da questa cosa è un dolo che va al di là no? Del fatto in sé il fatto in sé è quello di sottrarre la cosa. E infine poi abbiamo il dolo diretto che adesso a questo punto non mi interessa descrivere perché se no facciamo notte e poi abbiamo il dolo intenzionale che è un dolo particolarmente intenso dove il eh il giudista diciamo il giudice pretende il legislatore pretende che si voglia conseguire esattamente questo specifico risultato eh specifico risultato eh nel dolo intenzionale per dire è quello di nel caso appunto dell'abuso d'ufficio è quello di arricchire la persona oppure di arriccarle un danno eh come è descritta nella norma. Ora se noi andiamo a vedere la norma com'è formulata ah poi c'è un'altra categoria che devo indicare per quanto riguarda poi gli altri elementi del reato sono quelli dell'azione o dell'omissione quindi l'azione è un movimento del corpo anche parlare è un movimento del corpo ehm l'azione classica diciamo nel rubare è quella di sottrarre di impossessarmi del portafogli nel caso di uccidere è quella di sparare. L'omissione sussiste nel momento in cui io ho un obbligo di fare un qualche cosa che sia un obbligo giuridico o o di altro tipo contrattuale o quant'altro. E poi abbiamo anche tra l'azione e l'omissione possiamo avere ma non necessariamente abbiamo anche un evento quindi l'evento è la modificazione del 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 il cambiamento che interviene a seguito della condotta eh o dell'omissione eh negativa da parte eh del 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 reo no? Quindi per dire nel caso del eh dell'omicidio è la morte del soggetto nel caso del furto è l'impossessamento eh del ehm della cosa che ho rubato. Questo è l'evento. Tra i due tra l'azione e l'omissione e l'evento ci deve essere nel suo causale ma questo non ci interessa nella fattispecie. Ci sono poi anche dei reati in cui il legislatore fa a meno dell'evento, punisce il fatto in sé a prescindere se vi è stato un evento o meno. Ecco questo in sintesi molto generale i principi generali. Adesso se noi andiamo a vedere la norma com'era formulata nel 1990 ed è questo diciamo la colonna a sinistra no? Abbiamo abuso d'ufficio. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio. Tralasciamo queste definizioni che adesso non ci interessano che cos'è un pubblico ufficiale, che cos'è un incaricato di pubblico servizio, che al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio. È punito se il fatto non costituisce più grave reato con la reclusione fino a due anni. Poi abbiamo il comma 2 che è un aggravante. Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale la pena della reclusione da 2 a 5 anni. Quindi abbiamo la condotta che viene descritta qui nel capo 1. Se noi andiamo a prendere il dolo qui è il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio che è nella fattispecie attenuata base un vantaggio non patrimoniale. Nella fattispecie aggravata del comma 2 è un vantaggio patrimoniale. Quindi abbiamo il cosiddetto dolo specifico, scendendo qui, dolo specifico al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto. Poi abbiamo l'azione o d'omissione che è l'abusare del suo ufficio e qui proprio interviene il grosso problema. Che cos'è l'abusare del suo ufficio? E' qui che abbiamo il grosso nodo della legge del 1990 che apriva degli ampi margini interpretativi di tutti i tipi al pubblico ministero e al giudice per configurare il reato o meno. Fra l'altro poi abbiamo anche un'altra caratteristica. Il reato è un reato di mera condotta, perché voi vedete che qui non c'è nessun evento, c'è semplicemente l'abusare del suo ufficio. Se voi vedete qui nella descrizione della norma del 1990 c'è semplicemente il dolo specifico di voler procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e poi c'è l'abusare del suo ufficio. Punto e basta, non c'è altro. E allora voi vedete che la norma per come era formulata essenzialmente era una norma, reclusione fino a due anni, era una norma assolutamente generica, foriera chiaramente di grossi problemi e come tale si è rivelata per cui a distanza di sette anni dall'approvazione di questa norma il legislatore è intervenuto e ha approvato una serie di criteri assolutamente stringenti che sono quelli in questa formulazione del 1997 che vedete nella colonna a destra, almeno per come la leggo io. E qui abbiamo quindi, sempre salvo che il fatto non costituiscia più grave reato, cioè l'abuso d'ufficio è la norma di chiusura come mi pare di aver detto prima. Il pubblico ufficiale è l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio in violazione di norme di legge, ecco qui, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. È punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata, e qui abbiamo un'altra aggramante, nel caso in cui il vantaggio e il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Allora, se noi qui andiamo a prendere il primo dato che è quello dell'elemento soggettivo, qui non abbiamo più un dolo specifico, no? Non c'è il fine di procurarsi un ingiusto vantaggio. Però c'è questo inciso del legislatore che dice intenzionalmente, intenzionalmente, no? Dov'è il passaggio adesso? Ecco qua, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Quindi qui abbiamo il dolo intenzionale, cosa significa? Che il legislatore pretende che il pubblico funzionario abbia voluto fare conseguire proprio quel risultato al terzo soggetto che lui ha voluto beneficiare, oppure a se stesso o al suo congiunto, oppure ha voluto, nello specifico, danneggiare quel soggetto. Questo cosa ha comportato, ad esempio, da un punto di vista interpretativo, in favore, diciamo così, dei pubblici funzionari e dei sindaci. Può darsi, ad esempio, che spesso il mancato rispetto della norma o il vantaggio fatto conseguire alla terza persona aveva altresì uno scopo pubblicistico, no? Scopo, come dire, di mandare avanti la pubblica amministrazione per un qualsivoglia motivo. E pertanto qui, appunto, la giurisprudenza ha detto, la maggioranza della giurisprudenza, perché poi le pronunce in senso contrario, però tendenzialmente si dice che se questa violazione di norma che ha commesso questo sindaco, per dire, è finalizzata, sì, a far conseguire un vantaggio patrimoniale a un determinato soggetto. Però nel complesso era comunque nell'interesse politico o comunque nell'interesse della pubblica amministrazione. A quel punto questo dolo intenzionale viene meno e già non abbiamo più il reato, già sparisce. Facciamo un esempio di alcune applicazioni in questo senso. Una era, ad esempio, quella di un villaggio turistico costruito in un comune del sud Italia, che era stato costruito, evidentemente, in violazione dei parametri della normativa urbanistica e pertanto questo villaggio doveva essere chiuso. Il sindaco, però, considerato che questo significava perdere tot posti di lavoro tra gente che lavorava nel villaggio e indotto più entrate economiche per il comune, aveva dato un'autorizzazione ad operare provvisoriamente in favore di questo villaggio. Quindi lui chiaramente ha agito in violazione di legge, però lo ha fatto e facendo conseguire un vantaggio, tra virgolette, ingiusto al titolare di questo villaggio. Però nel contempo ha agito nell'interesse pubblico, diciamo così, del suo comune perché ha salvaguardato posti di lavoro e entrate o quant'altro. Un altro caso, e questo è molto interessante perché è un caso che è stato, come dire, che è recentissimo e quindi successivo all'ultima modifica della norma, è quella di un sindaco che ha prorogato l'assunzione di personale di sicurezza all'interno del comune, del quale faceva parte anche la moglie, quindi un congiunto che ha beneficiato di questa decisione ingiusta, diciamo così, dove però si dice c'era l'interesse preminente a garantire la sicurezza del comune stesso e pertanto anche in questo caso la Cassazione è giunta alla conclusione, e anche i giudici di merito, alla conclusione che questo dolo intenzionale non c'era. Quindi già qui abbiamo un primo parametro dove i margini interpretativi per il pubblico ministero e poi successivamente per il giudice si restringono in maniera abbastanza significativa. Ma non basta, no? Perché se poi noi andiamo a prendere in che cosa consiste l'azione o d'omissione, mentre se noi guardiamo a sinistra si parla genericamente di abusare del proprio ufficio, che è quindi un termine assolutamente generico che lascia spazio a interpretazioni anche mirabolanti, qui invece il legislatore interviene e cerca di limitare di molto questa azione o d'omissione, la definisce in maniera molto chiara, dice in violazione di norme di legge o di regolamento, oppure, secondo le ipotesi, omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti. Allora qui dobbiamo fare una distinzione perché abbiamo appunto da un lato la violazione di norme di legge e dall'altra la violazione dell'obbligo di astenersi. Quindi partiamo da quest'ultimo obbligo, cioè la violazione dell'obbligo di astenersi. Qui la stessa giurisprudenza dice attenzione, è necessario il requisito della cosiddetta doppia ingiustizia, cioè oltre alla violazione dell'obbligo di astenersi, ci deve essere anche un vantaggio ingiusto che tu hai conseguito. Facciamo un esempio, io sono un soggetto pubblico, sono un pubblico funzionario che ha diritto ad un rimborso spese per delle spese che ha sostenuto e io me le autorizzo, quindi io me le liquido, quindi io ho agito in violazione del mio dovere di astenermi perché questa decisione dovrebbe aspettare ad una terza persona. Però siccome ho diritto ad avere questo rimborso, viene meno il requisito della doppia ingiustizia e pertanto già qui abbiamo, anche qui diciamo così, non abbiamo la sussistenza del reato, perché non c'è un danno per la pubblica amministrazione. Veniamo poi invece alla violazione di norme di legge o regolamento. E qui chiaramente, o chiaramente, qui si apre tutta una problematica abbastanza vasta perché la giurisprudenza, quindi i pubblici ministeri, i giudici e poi la giurisprudenza in alcuni casi hanno un po' travalicato questi discorsi che facevamo prima dove sono le colpe della magistratura. Ecco, una delle colpe della magistratura è qui che alcuni giudici e prima pubblici ministeri hanno ravvisato la violazione della norma di legge nella violazione dell'articolo 97 della Costituzione che è il principio di buona amministrazione. E dicono, vabbè, tu violi l'articolo 97, non hai agito nell'interesse dell'amministrazione, hai violato l'articolo 97 e quella è una violazione di norma di legge e a quel punto tu hai commesso il reato. E qui, qua, siamo già in una situazione sostanzialmente di abuso sull'abuso. Esatto. Sì, tra l'altro, aggiungo, lo hanno fatto le sezioni unite questa cosa nel 2011, non esattamente qualche giudice di merito, no? Quindi nel senso di dire la cosa è ancora più grave. Sì, da questo punto di vista, appunto, lì c'è una colpa indubbiamente della magistratura, no? Perché consente a quel punto di, consentiva di contestare dei fatti dove non c'era, c'era semplicemente un cosiddetto eccesso di potere e quindi qui adesso apriamo tutta una categoria del diritto amministrativo che mi va a complicare ulteriormente la problematica e la descrizione della norma. Però, detto in parole molto povere, le contestazioni dell'atto amministrativo possono essere di tre tipi, diciamo di due tipi per semplificarla. La prima è quella di una violazione diretta dalla norma di legge e quella è molto semplice. La seconda, invece, è la categoria, quella del cosiddetto eccesso di potere, no? In quel caso, formalmente, la norma è stata rispettata, quindi formalmente io ho il potere per rilasciare una concessione edilizia o non rilasciarla, per prendere una determinata decisione, però lo scopo della norma non viene rispettata. È una categoria che ha elaborato, diciamo, la giurisprudenza amministrativa e che viene applicata ormai da più di un secolo, anzi, anche di più, credo almeno, non mi ricordo, ma comunque è una categoria molto ormai scolpita nell'ordinamento giuridico. Però siamo proprio qui nell'eccesso di potere, dove qui è la magistratura penale che va sostanzialmente quasi a sostituirsi al giudice amministrativo e a dire, sì, vabbè, lui aveva il potere di rilasciare quella concessione, però la concessione non era valida per eccesso di potere, non perché c'è una violazione di legge, e pertanto abbiamo l'abuso d'ufficio. Ed è questo poi uno dei grandi problemi che ha, come dire, comportato delle interpretazioni un po' troppo disinvolte e magari portato a delle condanne non del tutto accettabili. Poi abbiamo un altro elemento del reato, mentre prima era semplicemente qui, adesso si pretende diventato un reato di evento, nel senso che bisogna avere procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Quindi io, violando la norma di legge o di regolamento, oppure omettendo di astenermi, mi sono procurato un ingiusto vantaggio, l'ho procurato a una terza persona, oppure ho arrecato un danno. No? Qui adesso manca il danno, non l'ho scritto. Comunque vabbè, manca il danno, no? O meglio, ho cagionato un danno. Quindi è diventato un reato di evento ed è un ulteriore elemento che definisce la norma e la scolpisce e quindi la rende di maggiore difficoltà applicativa. E questa è poi la ragione per cui, alla fine, nel 95% delle notizie di reato vengono archiviate. Perché, come potete vedere, i miei margini di manovra di pubblico ministero sono estremamente ridotti, no? Quindi, in definitiva, se io applico la norma come dovrei applicarla, è chiaro che se poi mi invento l'articolo 97 della Costituzione, poi di nuovo mi amplio i miei spazi interpretativi e in maniera, secondo me, non del tutto corretta. Nel 2020, quindi l'anno della pandemia, interviene poi nuovamente il legislatore. Quindi adesso abbiamo sulla sinistra la fattispecie del 1997, no? Il reato come era nel 1997. Nel 2020 il legislatore interviene e dice, esordisce come nell'altra norma del 1997, salvo che il fatto non costituisse più grave, reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e soprattutto, e questo è il passaggio più importante, e dalle quali non residino margini di discrezionalità, no? E poi la norma rimane sostanzialmente uguale. Quindi introduce questo principio, aumenta poi la pena con la reclusione da 1 a 4 anni e poi c'è. Qui abbiamo allora, se noi compariamo alle due norme il dolo è rimasto sempre lo stesso. Che cosa cambia? Cambia l'azione o d'omissione, no? L'azione o d'omissione cambia perché qui adesso non si parla più di violazione di norme di legge o di regolamento, ma si parla di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, quindi niente più articolo 97 della Costituzione, o da atti aventi forza di legge e dalle quali soprattutto non residuino margini di discrezionalità. e quindi voi capite che a questo punto questa è quasi una sorta di abolizione della norma sostanzialmente perché difficilmente, cioè risidono veramente ipotesi abbastanza di scuola, abbastanza teoriche del tipo il sindaco che assume la moglie non più per concorso ma per chiamata diretta, no? Oppure del sindaco che affida dei lavori non con una procedura di evidenza pubblica ma con affidamento diretto. In questi casi lui a quel punto non avendo il potere, non avendo il potere, non può ne avere nemmeno la discrezionalità e a quel punto abbiamo un'ipotesi di abuso d'ufficio. Queste sono ormai e a questo punto le ipotesi risiduali attualmente in cui un pubblico funzionario potrebbe incappare in una contestazione per violazione di specie di reato. Quindi come potete vedere ormai sono ipotesi non dico di scuola ma estremamente rare quelle in cui effettivamente si possa arrivare ad una condanna per per violazione dell'articolo 303. Prego Roberto Palumbo. Sì mi riallaccio a una cosa che è stata detta all'inizio di questo video parlando appunto dell'abuso d'ufficio come un reato sentinella ne hai parlato tu brevemente Marco infatti alcuni colleghi suoi colleghi Bisignano definiscono appunto l'abuso d'ufficio un reato sentinella come per esempio il procuratore di Torino intervistato dalla stampa che si intende precisamente come un reato sentinella molto brevemente Allora in sostanza gli magistrati si rendono perfettamente conto che l'abuso d'ufficio è difficilmente contestabile però si dice ma partendo da questo abuso d'ufficio facendo indagini su questo abuso d'ufficio probabilmente c'è sotto qualcosa di diverso e quindi un reato ben più grave tipo la corruzione facciamo un'ipotesi assolutamente banale semplice un sindaco che rilascia una concessione edilizia in violazione palese di legge ha un tizio che per dire vuole costruire il famoso villaggio sul mare e il sindaco gli rilascia la concessione e quindi questa cosa oltre ad essere una violazione di legge commessa intenzionalmente per favorire questo soggetto questo titolare del villaggio con ogni probabilità puzza fortemente di corruzione solo che questo argomento del reato spia non mi trova molto d'accordo è vero che puzza fortemente di corruzione ma il discorso è a questo punto perché non partiamo direttamente con la corruzione tanto più che con la corruzione io ho a disposizione anche strumenti di investigazione molto più potenti e quindi sto parlando delle intercettazioni ovviamente che invece nel caso dell'abuso d'ufficio non sarebbero possibili quindi è un argomento che mi lascia come dire questo non lo trovo molto condivisibile da parte lo ha usato anche il procuratore di Perugia ma non non vedo la finalità e lo scopo di partire con un'indagine con un abuso per abuso d'ufficio perché io lì dovrei arrivare alla corruzione tanto vale partire direttamente con la corruzione e trovare effettivamente quella che è la contropartita la vado direttamente a cercare quindi da questo punto di vista mi arriva comunque la notizia di reato anche con l'abolizione dell'abuso d'ufficio mi arriverà direttamente la notizia di reato per potenziale corruzione insomma no perché io ho tutti gli elementi a fronte di un sindaco che ha rilasciato una concessione edilizia palesemente invalida ad un soggetto che con questa concessione si arricchisce a questo punto io ho tutti gli elementi per ritenere che quel sindaco sia stato corrotto per poter indagare in questo senso quindi non sono d'accordo sull'argomento dei colleghi grazie grazie Axel Bisegnano per essere stato con noi e per averci dato questa prospettiva fondamentale sul buso d'ufficio e sulla proposta del ministro nordio di abolire Tukur questa fattispecie spero che questa conversazione sia stata interessante spero anche che abbia fatto cambiare idea un po' ad alcuni dei nostri ascoltatori che in questi giorni ci hanno scritto invitandoci a parlare di questo tema ma con una prospettiva che sicuramente era nelle loro idee un po' a favore di di quello che aveva proposto Carlo Nordio perfetto grazie quindi ad Axel Bisegnano grazie Roberto Palumbo per la co-conduzione a tutti voi che ci state ascoltando l'augurio di una buona serata a presto grazie mille ciao a tutti